La musica ti permette di uscire dalla confusione e della mappa che ti guida nella scelta di tutti i servizi del tuo matrimonio Se stai progettando il tuo matrimonio in era covid e sei bloccata perché non sai da dove cominciare Ho preparato per te un video gratuito dove scoprirai come la musica è la tua guida Che ti permette di evitare l'errore numero uno che commette l'87% delle coppie all'inizio della progettazione del proprio matrimonio E che le tiene in balia della confusione Clicca subito qui sotto e accedi ora alla video guida gratis Ciao